Per quali ragioni negli ultimi due anni i gestori hanno spesso adottato strategie e temi di investimento innovativi inusuali? Temi di investimento innovativi sono la maniera per riuscire in effetti a ottenere dei rendimenti. Di recente molti asset manager nell'azionario hanno ottenuto rendimenti peggiori del loro benchmark di riferimento, per questo tentano di adottare temi innovativi perché è la maniera migliore per riuscire a trovare delle buone azioni su cui investire. Quali economie stanno andando in questa direzione e per quale ragione? Il nostro fondo Golden Age investe sul tema dell'invecchiamento della popolazione, un tema che è prevalente nei mercati sviluppati, pensiamo ad esempio al Giappone che è un paese che ha la più grande proporzione di alziani sul totale della popolazione al mondo, una situazione non molto diversa si può trovare comunque anche in Europa e negli Stati Uniti. Ciò non vuol dire comunque che non abbiamo presenza sui mercati emergenti, il tema dei mercati emergenti sia per noi assente, infatti molte aziende sia europee che americane hanno una grande presenza nei mercati emergenti come la Cina o altre locazioni nel Pacifico, nell'Asia o anche in Sud America. Inoltre certe terapie mediche come ad esempio la terapia per radiazioni per trattare il cancro, la chimioterapia è pochissimo diffusa nei paesi emergenti. Può descrivere la propria strategia di investimento? Il nostro fondo Golden Age tenta di ottenere una sovra performance investendo in azioni che sono in grado di generare in maniera sostenibile una crescita di profitti superiore a quella media del mercato. Pertanto riteniamo che se questa crescita degli utili si tradurrà in un equivalente crescita dei corsi azionari, la nostra performance sarà superiore a quella di mercato. Abbiamo quindi un'inclinazione a un portafoglio di tipo growth, però non è un portafoglio growth che noi costruiamo pagando qualsiasi cifra. Usiamo un approccio cosiddetto GARP, growth a reasonable price, growth a prezzi ragionevoli. Siamo molto attenti, molto disciplinati per quanto riguarda le valutazioni e inoltre non prendiamo rischi di tipo binario. Ogni titolo che noi aggiungiamo al nostro portafoglio viene confrontato con la volatilità del portafoglio e nessuna azione può rappresentare più del 5% della volatilità complessiva del nostro portafoglio. Siamo molto attenti ai nostri rendimenti in termini di risk adjusted. Inoltre abbiamo dei requisiti minimi di capitalizzazione, non investiamo in azioni che hanno meno di mezzo miliardo di dollari di capitalizzazione e inoltre anche devono avere un determinato volume di scambi sui mercati. Non vogliamo possedere più di un tot giorni di volumi di scambi medi delle azioni. In questa maniera siamo riusciti a ottenere delle valide sovra performance ad esempio nell'ultimo anno alla classe istituzionale del nostro fondo ha messo segno di un 17% più di circa 6 punti percentuali rispetto a quello che è l'indice di riferimento. Quando investite in un'azienda vi focalizzate sul loro core business, sui loro mercati di sbocco o sulla stabilità dell'azienda. Ci concentriamo su tutti questi aspetti, in effetti ci concentriamo molto sul core business dell'azienda. Ogni anno abbiamo centinaia di meeting in giro per il mondo con il management dell'azienda in cui investiamo. Tentiamo di capire come sono intenzionati a generare crescita, che sia crescita organica o sia crescita attraverso acquisizioni. Siamo interessati a capire come hanno intenzione di espandere i propri margini operativi lordi, ad esempio quanti soldi hanno intenzione di spendere in ricerca e sviluppo. Passiamo quindi molto tempo a fare analisi di tipo bottom up. Inoltre parlando col management delle varie aziende possiamo avere un'idea di come certi mercati stanno andando prima ancora che il resto del mercato se ne renda conto. Ad esempio nello scorso ottunno abbiamo parlato col management di un'azienda che ha il 20% del fatturato in Cina e ci hanno detto che il mercato in Cina era probabilmente giunto al suo minimo e stava migliorando. Ciò si è rivelato vero e l'abbiamo saputo prima che uscissero le statistiche sul PMI cinese. Inoltre vogliamo fare parecchie analisi top down, leggiamo molti rapporti macro sia a livello side, parliamo con altri investitori, buy side perché vogliamo capire quali sono i mercati dove si possono generare crescita. Non vogliamo comprare una buona casa in un cattivo quartiere, vogliamo comprare una buona casa in un buon quartiere. Preferiamo inserirci in un trend di crescita favorevole piuttosto che in un trend contrario. Quali sono i temi di investimento più interessanti su cui si sta focalizzando al momento? Il nostro è un fondo che investe sul tema dell'invecchiamento della popolazione, pertanto siamo interessati a investire su aziende che beneficiano dalla diffusione delle malattie croniche, ad esempio malattie cardiovascolari o i tumori che sono malattie che tendono a ritornare e dover essere curate continuamente. Inoltre siamo interessati al tema dell'asset management e della gestione della ricchezza. Man mano che la generazione dei baby boomers, soprattutto negli Stati Uniti, comincia a avvicinarsi alla pensione e ad andare in pensione, hanno bisogno di gestire in maniera adeguata le proprie finanze per avere una stabilità finanziaria quando sono in pensione. Ci esponiamo a questo tema investendo su società di asset management e anche su quei gruppi di private equity che sono cotati in borsa, in quanto generalmente la maggior parte dei loro asset vengono da investitori che sono a fondi pensione. Inoltre siamo interessati al mercato giapponese in generale. Il Giappone ha la maggiore presenza di anziani al mondo. Attualmente circa il 25% della popolazione ha più di 65 anni. Inoltre questo segmento della popolazione tende a essere il segmento più ricco in termini di asset che possiede, tanto che rappresenta da solo il 45% di tutti i consumi dell'economia giapponese. Pertanto pensiamo che ci siano dei temi di investimento interessanti. Pensiamo al fatto che il Giappone ad esempio ha 10 milioni di abitanti che hanno più di 80 anni. Il Paese ha una cronica mancanza di letti, di posti in caso di riposo. Infatti i valori familiari in Giappone stanno cominciando a cambiare in maniera piuttosto rapida. Una volta erano le famiglie che si occupavano degli anziani. Adesso è sempre meno il caso e vi sono poche, poche case di riposo rispetto alla domanda. Questo è potenzialmente un tema di sviluppo molto, molto importante. Grazie.